Per Settimana Sport siamo con Mirko Manca, allenatore del Vecchio Castagna, squadra B, che partecipa al campionato di terza categoria del Gironne di Chiaveri. Allora Mirko, oggi ho visto alcuni momenti della vostra partita. Direi siete una bella squadra, tanti ragazzi giovani e direi bravi. Sì, abbiamo deciso quest'anno di trovare questa soluzione, di fare questo percorso per far giocare tutti i giovani e per capire un attimino se per un altro anno qualcuno possa essere pronto per fare il salto nella nostra prima squadra. Ovviamente il salto è difficile, ci sono delle grossissime difficoltà, soprattutto a livello fisico, perché poi ci scontriamo contro uomini, quindi loro sono tutti ragazzi giovani. Però la cosa che mi piace è che provano sempre comunque a giocare a calcio, che è la cosa principale, sono messi bene in campo, nel senso che tutto quello che li facciamo vedere lo fanno a perfezione. Ovviamente è un salto appunto nel buio, perché comunque essendo giovani peccano di esperienza. Però passo passo, con calma, con la pazienza, con la costanza, con la voglia di apprendere, secondo me possiamo toglierci un bel po' di soddisfazione. Mirko, ho visto anche dei ragazzi della prima squadra oggi che seguivano la partita e tifavano per i tuoi ragazzi. Sì, 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 è un gruppo bellissimo, perché tanti giovani che si allenano con noi, si allenano anche con la prima squadra, quindi a seguire le partite vengono numerosi e questo è bello, perché è un gran bel gruppo. Ok, scusami, vi diana qualcosa? No, 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 finito. Ok, grazie Mirko, ciao, alle prossime.